Sì, eccoci ritornati sul gioco, su questo bellissimo gioco. Allora, possiamo migliorare Nita, quindi miglioriamo Nita. Proviamo Pocho, anche se vabbè è abbastanza scontato. Prendiamo nuovi eventi e finalmente proviamo sopravvivenza. No, perché solo? Due. Con Pocho non si può fare sopravvivenza solo, non si può fare con Pocho. Allora, io so che hanno cambiato veramente tantissime cose di Brawl Stars, ma è tantissimo che non ci gioco, quindi io non so cosa hanno cambiato di Brawl Stars. So che hanno aggiunto tantissimi nuovi Brawler, le mappe sono diverse, basta, non so niente, io non seguo tantissimo i video di Brawl Stars, quindi non sono tanto informato al riguardo. Comunque ragazzi, vediamo di poter fare il Brawl Past, il Brawl Past, il Brawl Past, speriamo. Io so che più tu sei forte, più ti capita gente forte, quindi mi sa che se non è tantissimo forte è fregato. Uh, eccolo! Chillo lo male? Perfetto. Siamo ancora a tre squadre rimaste. Noi abbiamo il Monopolio. Dai, che io devo fare un video lungo oggi. Ok, scontro finale. Vediamo cosa possiamo fare. Ok, tu vai, kill a quello. Ho lanciato la ulti sbagliata. Anche perché mi serviva per integrare la vita, a me non mi serviva per integrare la vita in quel momento. Perfetto ragazzi, siamo riusciti a vincere, è una bellissima vittoria. 9 coppe, meritate, direi. Tantissimi punti. E abbiamo il Brawl Past. E abbiamo pure la cassetta qua del cammino dei trofei. Già, nessuno. Come voleva si dimostrare. Cosa mi danno? 10 gemme, cioè non mi danno niente. 10 gemme è pochissimo. Ma sì. Facciamoci un'altra sopravvivenza però con... Sì, con Pocho. Siamo su due. Ragazzi, allora... Oh, siamo due Pochi. Che coincidenza. Dai, possiamo farcela. Becchiamoci questi quattro punti energia. Dai, possiamo averne quattro. Grandissimo. Eh, va bene. Stiamo andando easy? Ragazzi? Mo' ci becchiamo st'energia. Ci becchiamo st'energietta. Io mi prendo l'energy drink che spona qua. Vedo di uccidere un bombardino. Questo tizio qua, che ha pochissima vita, è finito nel gas. E noi lo chiediamo. Siamo allo scontro finale, ragazzi. Siamo allo scontro finale. Ah, c'è, sto Pocho si sta rivelando... Meno scarso del previsto. Meno scarso, non... Non scarso. Dai, non deve risuscitare nessuno. Ma sì, dai. Questo lo facciamo fuori in un colpo, in un attimo. E siamo andati easy, anche questa vittoria. Nove coppe. Nove coppe. Vittoria easy. Molto bella. Direi, anche in questo caso, vittoria molto, 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 molto meritata. E ci facciamo pure un'altra partitina. Ma sì, dai. Voglio andare all'ultimo Brawl Pass. Allora, chiediamoci questa. No, Colt. Io sono anti-Colt. Proprio il nemico numero uno di Colt. Colt è proprio uno di quei personaggi che, secondo me, veramente non dovrebbe esserci in Brawl Stars. Non mi piace, Colt. Che ci devo fare? E già abbiamo... Ci siamo beccati tre di energia. Qua ne abbiamo alcuna. Bella salvata. Già siamo allo scontro finale. E questo mi vuole killare. No, ci siamo usati l'ultimale. Questa cosa non è bella. Dai che abbiamo dieci di energia. Chiediamoci questi. Non possono stare vivi per sempre. Vai, va killato questo. Eh, si è spartato l'ulti. Quello poteva usare l'ulti per attaccarmi e non mi ha attaccato. Comunque, io devo ucciderti. È una questione proprio... Se voglio vincere, devo ucciderti. Che è diverso. Eh, con 54 di leader è rimasto. Questa volta ci abbiamo messo addirittura un minuto per vincere. E abbiamo vinto. E portiamo al grado tre il nostro pocciuno. Il nostro poccio. E speriamo nel Brawl Pass, io direi, ci possiamo sbloccare un bellissimo Colt. Direi, apriamoci questa cassetta enorme. Dove non troviamo niente. E mi pare ovvio. E ci sblocchiamo Colt, direi. Sì, 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 dai. In questo video ci sblocchiamo Colt. Ci sblocchiamo Colt e la finiamo lì. Se capisci qualcosa di Brawl Stars... No, si è preso lei l'energia. E muoio. Quando un personaggio del gruppo muore, la squadra è fregata. Credetemi. Allora, vincerà quella là che ha la ulti, a meno che non è scarsa. E' scarsa. Quindi ha perso. Io dico, con tutta quell'energia, che non era tantissima, ma era buona, con tutta quell'energia che aveva, perché non è riuscita a vincere? Allora, siamo allo scontro finale. Almeno sette coppe ce le becchiamo easy. E io punterei proprio su quelle. Ma se queste non si fanno vivi, noi qua, le sette coppe, le vedremo soltanto nel prossimo episodio. Mi sono usato bene la ulti, attenzione, c'è una speranza... No, non c'è una speranza. Soltanto la mia compagna ha la speranza, perché io non ci so giocare a sto gioco. Cioè, qualcuno di noi deve morire, quindi... O uccidi qualcuno, o qualcuno ti uccide. Non ce n'è tanta di... Bene, abbiamo perso, abbiamo perso malissimo. Sette coppe a me non bastano mai nella vita, però mi bastano per sbloccare il colticello. E ci prendiamo colticello. Come alla fine del video? Fine video, colticello. E abbiamo colticello. Colticello, ragazzi, questo video finisce qui. È già venuto troppo lungo, più del previsto. Quindi, ragazzi, lasciate like, mettete un mi piace, condividete il video, commentate. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!